Salvatore Rosa Spruzzi, Pierpiero Prepuzzi, Sglosgop Zorga ed infine Analdo Chiappe. Ora per favore spiegatemi per quale cavolo di motivo siete così tanto attratti dai casi umani. Salve splendori, io sono Tierless Raptor e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con YouTubers Life. I primi passi di Analdo nel mondo di YouTube sono stati davvero pessimi, come d'altronde pessimo è lui stesso. Riuscirà il nostro baffuto uomo dai capelli verdi a fare successo prima che la mamma lo fucili o li porti via il computer? Temo di no, però vediamo. Prima di continuare con il video vi ricordo che questa sera, a partire dalle ore 7, sarò in live sul mio canale Twitch, il link l'ho trovato all'inizio della descrizione e nel commento pinnato in alto, vi aspetto numerosi, non mancate. Oh boy, potrei aver fatto un errore gigantesco. Apparentemente bisognava salvare e non era al corrente. Cominciamo la speedrun di YouTubers Life OMG, per tornare al punto dell'altra volta. Al che mi chiedo se sia davvero Analdo Chiappa il peggiore YouTuber di sempre e non lo sia io. Bravo Tearles, un applauso, standing ovulation per te. Non vorrei dire, ma potrebbe esserci un piccolo problemino con la storyline. Il video di League of Giants sta overperformando, sta quasi a 800 visual. E comunque in generale ho fatto più visual e iscritti di quanti ne avessi prima. E in ogni caso ha finito, mi ha fatto quasi 800 visual, 787, 20 like, 177 iscritti e 787 visual. Con un solo dislike. Beh, onesto. Hai ricevuto un'email. Caro Analdo Chiappe, in seguito al raggiungimento dei tuoi primi 100 iscritti, siamo orati di darti il benvenuto nel mondo di YouTube. E ti ricapitiamo una tessera contenente 15 dollari da investire in pubblicità o negozi online. Grazie YouTube, ma i soldi dai video? Non me li dai? Vabbè, ah, ma ne abbiamo 200 iscritti in tutto questo. E siccome abbiamo i big money, perché apparentemente ho lavorato più del dovuto, andiamo a fare shopping e compriamo un sacco di cose utili. E sarebbe forse il caso di fare qualche upgrade alla mia attrezzatura? Nah. Andiamo quindi da idea e compriamo un tappeto verde, un tappeto rosso e delle cornici per le fotografie. Beh, ora sì che siamo arredati bene. Grazie YouTube per i soldi. Uh, le fotografie. Dove sono finite? Sopra l'armadietto. Questo qua è uno dei miei due tappeti? Ma che schifo, ma è orribile, Analdo, ma è pure storto. Quello verde fa che sia dritto, almeno. Oh, grazie. A questo punto ti direi che è arrivato il momento di fare un altro video, un nuovo video di gaming, sempre di League of Giants, perché quello di prima è andato bene. Tuttavia dobbiamo essere incongruenti. Pertanto, il secondo video di League of Giants si chiamerà Lovo League of Giants. Gioanta, sì. Gioanta, sicuro. E ok che ne stiamo parlando bene in questo momento, però gli urliamo lo stesso contro, perché è divertente urlare in faccia alle persone. E con il PC che frigge, direi che... Porca miseria, si incastrano anche troppo bene. Schippiamo completamente questa clip qua, dimentichiamocela. Mettiamo l'effetto sfocato e aggiungiamo un titolo. Tiè, vai. Eh, ripariamoci sto dannato PC. Mi piace che arriva a notte fonda. Sono le dieci e mezzo di sera e questo povero uomo della Tech System è qua a fixarmi il PC. Arrivederci. E mentre carica il video di League of Giants, direi di andare al lavoro. È entrato distrutto, ha fatto yeh tutto energico e poi è di nuovo morto a letto, poverino. Comunque vedo che della congruenza vi importa un sacco. Stiamo a 700 visual e sta piacendo un sacco anche sto video. Questo sta andando addirittura meglio. Potremmo toccare le mille. Rullo di tamburi. Oh, ale! Un K di visual! Viva l'incongruenza! Che bello! Ora sì che siamo dei veri YouTubers professional. Analdo, tu non dovresti avere tutto questo successo. Proprio per niente. Ma anche i commenti sono carini. Grazie, Blaze. Ti ricordavo diverso, Simo. Il video sta continuando ad andare. Io vado a scuola. È nottefonda, perché è buissimo, ma io vado a scuola. 261 iscritti e oltre 1000 visual. Si inizia a sfondare. Hai appena ottenuto un punto di talento. Ogni volta che raggiungi un livello dispari, vinci un punto che puoi investire nel migliorare e scoprire nuovi tipi di video. Posso dare un bustino ai video casual di gaming? Oppure posso sbloccare la possibilità di fare un video prima impressioni? Sono due cose semi-utili a entrambi. Casual, perché ho scelto a caso. E da bravi pessimi YouTuber quali siamo, direi di andare a fare un nuovo video di gaming e di portare Gorilla Soccer di nuovo. Perché sì? E il video di Gorilla Soccer lo chiameremo... Ha ha ha. Raga, guardate questi gorilla. Ha ha ha. Che titoli orribili, cavolo. Perché, Analdo? In realtà devo ammetterlo, sto dando libero sfogo alla mia fantasia. Se potessi rifare anche io i video chiamati in quel modo. E siccome l'abbiamo buttata sul divertente, facciamo commenti tecnici, che proprio annoiano le persone. Posso incastrarmi malissimo? Può essere il peggior video di sempre! Ma come interesse 72? È un videaccio del genere? Intanto sto morendo sia di inedia che di sonno. Dormire è più importante. A mangiare ci penseremo poi. Sta dormendo in piedi. Raga, si è impallato. Non, non, non... Cosa? Ah, l'ho messo in pausa per sbaglio. Ma non l'avevo capito io mai nella vita. Ora si spiega tutto perché si fosse bloccato il povero Analdo davanti al letto dormendo. Andiamo a mangiare. Anzi, andiamo a lavorare. Per mangiare c'è sempre tempo. Ha maggior ragione se andiamo ad aiutare la nonna. Arrivo a svuotarti il frigo. Tranquilla, nonnina. Ci penso io. Raga, mi è scomparso Analdo. Non so dove sia. Analdo? Analdo? Non lo trovo in casa? Ma ho ancora il gioco in pausa. Ma porca miseria. Ma devo smetterla. Ma raga, ma pure Gorilla Soccer mi fa visual. Ma cosa succede? Abbiamo ancora due giorni e 17 ore per ottenere un buon voto nel test. Credo. E sti cavoli. È più importante fare i big monies. Andiamo a consegnare giornali alle 2 del mattino. In tutto questo mi ha fatto 9 iscritti e 100 visual con il video di Gorilla Soccer. Andiamo a studiare così la mamma è felice se studiamo e non ci porta via il computer. Actually, marinando la scuola come un capo. Fa finta di studiare in realtà al bar a farsi i bianchetti. Mancano 28 ore all'esame. Dobbiamo fare due cose. La prima, registrare un video di gaming. E lo facciamo su Empire Planet 2. E lo chiameremo. Raga, aiuto. Ho un esame e non ho studiato. La mamma mi ritira il pc. Purtroppo non si può fare. Però me lo immagino che da telefono lì... Bella raga, io non potrò più fare video perché, cioè, la mamma mi ha messo in punizione. Peace. Però vorrei dire anche altre cose oltre a queste tre perché mi rompo le scatole. E questo qua lo dobbiamo montare di fretta. Quindi lo mettiamo così come viene. Proprio l'ordine deve essere casuale. Vai, elabora, elabora. Non abbiamo tempo. Ma com'è il mio miglior video questo? Uh, però l'interesse è pessimo. Dite che dovrei dormire? Beh, in effetti sì. Ho tipo un esame tra due ore. Dormi un paio d'ore. Sto dormendo. Sto saltando l'esame. Sto dormendo. Non è vero, è appena successo. Ah no, sono andato a farlo adesso, in piena notte. Il voto dell'esame di questo mese è quattro bocciato. Oh no. Oh no. Oh no. Ma ho studiato quattro volte. Beh, in effetti ho studiato quattro volte, me lo merito al quattro. No, mamma. Mamma no. Mamma no. Hai preso quattro di castigo per due giorni senza computer. Come faccio a diventare uno youtuber? Come faccio a farti diventare ricca? Adesso devo stare due giorni così, a guardare la porta. In silenzio, super depre. Ma mamma, grazie per il pc, che è apparso dal nulla. Ma intanto il video è stato pubblicato adesso, con tipo otto giorni di ritardo. Perché? Vabbè, mentre il video va, noi andiamo a lavorare di nuovo. C'è la mamma. Io non ci sono e c'è la mamma. Eh beh, che cosa vuoi da me? Mi ha simulato da solo quattro giorni su sette della settimana e si arrabbiava. Oh. Vabbè mamma, non mi serve la scuola. Io sto facendo i big monies. Guarda quanto sto creando la mia crew di quasi 500 persone. Che dite, andiamo a fare un po' di shopping. Abbiamo 215 dollari, li dovremo utilizzare per qualcosa. Posso prendermi il mulo di poster? Oh, riempiamola a casa, va? La sveglia non mi serve perché tanto non dormo mai. Potrei comprarmi la Honey Play Studios. C'è anche il mantendo DS. Che vorrebbe dire che perdo tutti i miei soldi. Andiamo a lavorare prima, così abbiamo un minimo di budget a parte. Devo dire che con tutti quanti i posteri foglietti adesso la tabella qua ha il suo perché. Non so se spendere soldi per prendere la console. Sarebbe un acquisto troppo sensato. Soprattutto considerato che è una console nuova quella. Abbiamo tre giochi in netta risalita e uno in grande discesa. Lord Battle for Upper Earth. Sapete cosa sto per fare? Esatto. E direi di farcelo anche un video su Lord. Ma do, abbiamo preso un gioco morto. E siccome non so come chiamare questo video, lo chiameremo... Boh... Cose... Oh boy! Sicuramente farei quattro visual. Come sempre, saluto formale. Commento divertente. Oppure sergente o commento tecnico. E infine, guarda un po', sguardo assassino, critica divertente o avvertimento. Oh, wow! Datemi altre carte. E andiamo a scuola, così la mamma è contenta e non mi dice niente di strano, di male. E guardate che bravo studente che sono, vado due volte a scuola nello stesso giorno. Eh, si è bruciato di nuovo il pc, ma per favore. Conviene continuare a riparare? No. Quindi lo ripariamo. Sì, sì, bravo, bravo. Avvita la scrivania e primi testi a caso. Ah, mi sembra di aver capito che ho delle nuove carte, vero? No, però le posso shoppare. Questa è uno. Eh, accetta, compra. Commento filosofico. Perché è una carta commento filosofico? E clamorosamente Lord ha fatto un po' di visual. Dei vari giochi che ho. Ce n'è uno ancora rilevante? No. Però il più rilevante è League of Giants. Quindi mi manca fare visual. Ecco League of Giants. Stiamo implorando le persone di guardare il video. Ma che trashata. Giochiamoci subito la carta pensiero filosofico. Yes, eccola. Ragioniamo su quanto l'essenza della vita in realtà non sia altro che fare le visual. Tutto il resto non conta. League of Giants le visual le fa ancora, eh. Magari non me ne fa un millino come le altre volte. Ma 5600 le farà sicuro. 376 visual, 42 iscritti. Abbiamo varcato la soglia dei 500. CPM base, un dollaro ogni mille visual. E questo è il CPM base, minchia, è meglio del mio. Signori YouTube, potrebbe fare come YouTube. Please. Ho dei figli da mantenere. Guardi quanto è ammaciato il mio piccolino. Non mangia da settimane ormai. Non mangia da mesi. Con meno di un dollaro di CPM. Io non posso mantenere la mia famiglia. Ha capito? Piangi, piangi. Grazie. Signori YouTube vuole fare ancora piangere questo povero bambino? No. Ho tanta fame. Ecco, faccia il bravo. Ma che cazzo stai facendo? Grazie per i soldoni. Uè, bella figa. E tra dove esci? Ma scusa. Voglio fare un video mentre gioco ma non ho idea di come registrarlo e ne montarlo. Ti dispiacerebbe farlo o di pubblicarlo? Ti spedirò il gioco. Scusami, il video lo registrerai io, lo monterei io e lo caricherai sul tuo canale con la mia faccia. Ok, spediscimi il gioco. Grazie. Ma mi vuoi pagare, vero? Uh, è arrivato il gioco. Nice. Che gioco è? Planet Wars Cutter. Vabbè, tranquilla, fa lo stesso anche se non mi paghi, non è importante. Sei carina. Basta che vieni a letto con me. Cheat qualsiasi youtuber gun. Ah, non detto niente. Sto facendo questo video soltanto perché me lo ha chiesto una fica. E siccome lo facciamo per lei e vogliamo in cambio dei favori, glielo editiamo pure bene. Guarda, ti faccio pure una color corrections e ti metto pure il titolo. Guarda che bravo che sono. Grazie per aver pubblicato il video, Analdo Chiappe. Dirò ai miei amici quanto sei stato bravo. Grazie, persona senza nome. Ti va di uscire con me? Sai che ci sarà un importante congresso di gaming tra qualche settimana? Potrei conoscere i youtuber famosi e ottenere un po' di notorietà. Ma il biglietto costa 65 dollari. Che dite? Confermiamo la nostra presenza? Tac. Game World. Il primo marzo. Tra tipo una settimana e mezza. Compra il biglietto. Yes. E andiamo con la nostra amica. Non l'ho invitata. Ups. Oh, intanto il video di Planet Wars Cutter 2 sta facendo un sacco di visual. Grazie Annabelle, potrei fare il mio primo dollaro da YouTubes. 2000 visual. Cosa non si fa per la patata? Bene, ora una domanda importante. Come si salva? Perché non ne ho idea. Salva. Ok. Oh. Yes, baby. Ebbene, splendori. Direi che è arrivato il momento di salutarci. Che cosa combinerà il nostro amato Analdo Chiappe alla convention? In compagnia della bella Annabelle? Spero... Non cosacce. Sono ancora troppo piccoli. Non si fa.